Ci troviamo a Parma nella sede dell'azienda farmaceutica Chiesi in occasione della pubblicazione di uno studio importante, lo studio Tritrial, che ha valutato nella realtà italiana l'efficacia di una cosiddetta triplice associazione nei pazienti con broncopneumopatia cronico-ostruttiva da moderata grave. Uno studio appunto importante che ci dà tanti messaggi che noi ci facciamo spiegare da due veri esperti, dalla professoressa Paola Rogliani dell'Università di Tor Vergata e dal professor Marco Contoli dell'Università di Ferrara. Tanto grazie di essere qui con noi. Professoressa, incomincio con lei. Prima di affrontare lo studio, una breve premessa sulle messaggi che ci arrivano dalle raccomandazioni Gold, che sono uscite da pochissimo, soprattutto per quanto concerne l'utilizzo delle triplici. Grazie per l'invito. Le ultime raccomandazioni Gold riaffermano nuovamente il ruolo della triplice terapia nel paziente con BPCO moderato grave. Già in una fase iniziale di trattamento viene suggerito, soprattutto in considerazione di un evento cardine nella storia naturale della BPCO stessa, che sono gli eventi acuti, le cosiddette riacutizzazioni, che sono degli eventi di grande rilevanza che vanno ad impattare su molteplici aspetti, ma non ultimo quello correlato anche alla sopravvivenza del paziente stesso. E già in una fase iniziale, anche in un paziente nel quale viene istituito il trattamento, viene suggerita la triplice terapia in considerazione delle riacutizzazioni e anche del tipo di infiammazione, quindi in considerazione del numero degli osinofili. Ma anche in una rivalutazione successiva, quello che viene definito il follow-up dopo una rivalutazione, viene suggerita la triplice terapia nel paziente che con la doppia non riesce a controllare i sintomi, o dove gli eventi riacutizzazioni si riverificano nonostante il trattamento istituito. E lì è anche indipendente, diciamo così, tra virgolette, dalla condizione di infiammazione dove i cut-off vengono leggermente rivisti nella impostazione terapeutica. Ma rappresenta sicuramente il cardine del trattamento nel paziente affetto da BPCO moderato grave. Professor Contoli, la terapia della BPCO ha subito una fortissima evoluzione negli ultimi anni. Rimangono però ancora dei bisogni medici insoddisfatti, i cosiddetti unmet medical need e la seconda domanda che penso sia strettamente correlata, ecco c'è modo di migliorare l'aderenza alla terapia che rimane sempre uno scoglio piuttosto difficile da superare. Sì, grazie. Credo che siano due aspetti molto importanti da tenere in considerazione in un paziente che per definizione di patologia è un paziente cronico, quindi un paziente con una lunga storia di patologia e che cronicamente tende a manifestare sintomi. Ha detto giustamente le strategie terapeutiche inalatorie negli ultimi anni, negli ultimi decenni, sono state ottimizzate sempre di più, con combinazioni di farmaci, con formulazioni sempre più sofisticate per cercare di fare che cosa? Per cercare di migliorare proprio sintomi e outcome clinici, come ad esempio, come diceva la professoressa Rogliani, le riacutizzazioni. Il problema è che il paziente con broncopneumopatia cronico-ostruttiva, nonostante venga adeguatamente contrattato, tende a essere persistentemente sintomatico. Ci sono dati molto interessanti pubblicati da osservazioni sempre in real life che fanno vedere come il rischio più importante per un paziente di avere sempre più farmaci è andare dal medico. Questo perché il paziente va dal medico, continua a riferire sintomi e il medico in qualche modo prescrive perché il paziente continua a essere sintomatico. Quindi pazienti con broncopneumopatia cronico-ostruttiva sono pazienti che necessitano proprio un'ottimizzazione al massimo del trattamento perché sono pazienti che un po' per definizione tendono ad essere persistentemente sintomatici. Come fare? Ha affrontato nella sua domanda un aspetto molto importante, l'aderenza al trattamento. L'aderenza al trattamento è un problema ovviamente non solo nell'ambito respiratorio, in tutte le patologie croniche della medicina moderna. Noi prescriviamo farmaci molto efficaci ma poi devono essere assunti regolarmente. Sicuramente lavorare sull'aderenza che passa anche attraverso la consapevolezza di patologia. Quindi più il paziente è consapevole della rilevanza della patologia più tende a essere in qualche modo aderente. È un aspetto molto importante che deve far parte di quel percorso di ottimizzazione delle strategie inalatorie. Si deve necessariamente passare attraverso alla consapevolezza di patologia per cercare di ambire ad una maggiore aderenza al trattamento. È un aspetto chiave fondamentale nei pazienti con patologia cronica in generale e anche respiratoria. E qui entrerebbe in gioco tutto il tema del rapporto medico-paziente che è logicamente un tema molto importante. Professore, se abbiamo parlato all'inizio, abbiamo detto che è uno studio di real life, qual è il valore aggiunto degli studi condotti nella vita reale, quindi un ambiente che non è quello diciamo così un po' assettico degli studi randomizzati e controllati. Lo dice la parola stessa, il fatto che sia real life nella vita vera va ad evidenziare la risposta ad un dato trattamento in un paziente che si avvicina a quello che valutiamo tutti i giorni nei nostri ambulatori, cioè il paziente vero, il paziente che è affetto da più condizioni concomitanti, che fa una politerapia, quindi più farmaci in contemporanea e quindi come impattano le varie condizioni l'una sulle altre e non ultima sulla BPCO. Per cui quando si parla di un risultato in un setting real life, quindi in una condizione di vita vera rispetto ad un ambiente controllato come quello di uno studio clinico, ebbene le due condizioni devono andare cosiddetto a braccetto, perché lo studio clinico, anche se il paziente è altamente selezionato, ci dà un dato, chiamiamolo così, pulito, anche se non risponde completamente a quello che è la vita vera. E lo studio invece di evidenza, e quindi quello condotto agli studi osservazionali di real life, vanno a integrare e vanno a rafforzare il dato, per cui l'evidenza del trial clinico e l'evidenza del real life devono andare necessariamente insieme al fine di rispondere ad un'esigenza terapeutica per un dato trattamento, in questo caso per il trattamento della BPCO e della triplice terapia che abbiamo visto nello studio clinico tri-trial. Insomma si completano un po' a vicenda questi dati. Veniamo adesso finalmente allo studio, abbiamo un po' girato intorno fino adesso. Ecco, come è stato condotto, quali erano i pazienti e soprattutto quali sono i punti di forza di questo studio? Cosa ha di interessante? Sembrerà ripetitivo, ma il punto di forza principale è sicuramente il fatto che sia uno studio real life. È uno studio condotto su oltre 600 pazienti in 43 centri distribuiti in tutto il territorio italiano, quindi ci offre una bella fotografia di quella che è la situazione italiana della BPCO e di come risponde al trattamento con la triplice terapia inalatoria. In questo caso è stato utilizzato in un unico inalatore, quindi la cosiddetta tripla combinazione fissa, il beclometasone, il glicopirronio e formoterolo. E lo studio ha evidenziato come l'utilizzo di questa triplice terapia nel paziente con BPCO moderato grave e quindi paziente per cui è indicato il trattamento con triplice terapia perché erano pazienti che avevano avuto esperienza di riacutizzazioni nell'anno precedente, abbia influito in maniera significativa su quelli che sono stati poi i risultati dello studio stesso. Siete, lo studio ha valutato la cosiddetta effectiveness, che vuol dire efficacia, che per inglese si dice anche efficacy. Professor Contoli, qual è la differenza? Una differenza non solo semantica ma credo molto importante. Gli studi randomizzati controllati ci dicono se un farmaco funziona. Gli studi di real life, come il tri-trial, ci dicono come un farmaco funziona. Lo studio randomizzato controllato che dà appunto quello che lei diceva al termine l'efficacy di un farmaco è un qualche cosa che non sempre il dato può essere traslato nella nostra pratica clinica perché i pazienti che noi vediamo nella nostra pratica clinica inevitabilmente sono un po' diversi rispetto ai pazienti che possono essere arruolati negli studi randomizzati controllati. Ecco perché a noi clinici servono molto i dati anche che provengono dagli studi di osservazione reale che fanno proprio alla complessità del paziente. Ecco la differenza un po' se vogliamo, che non è solo semantica tra efficacy e effectiveness. L'efficacy è l'efficacia un po' teorica di quel farmaco in un paziente ideale, virtuale. L'effectiveness è come si cala quell'efficacia nella nostra pratica clinica. Sono due informazioni, faccio fatica a dire quale sia più importante, anche i studi di real life sono estremamente importanti. Sono due informazioni molto rilevanti che aiutano il clinico nella scelta del farmaco. Professore, rimango con lei. Quali sono i risultati principali dello studio tri-trial? Che cosa ha dimostrato in buona sostanza? Lo studio tri-trial ha la caratteristica di essere basato e disegnato per esplorare quelli che oggi noi chiamiamo patient reported outcomes. Cioè, degli outcomes che non sono un, come posso dire, un interesse prioritario un po' per il clinico che va a esaminare il paziente, quanto piuttosto dei outcomes, degli items riferiti dal paziente stesso. Esplora quindi sintomi, esplora quindi la qualità di vita, esplora l'aderenza al trattamento. Oltre a esplorare, ovviamente, anche come secondary outcome, quegli aspetti fondamentali che abbiamo visto all'inizio della nostra chiacchierata, quali, ad esempio, riacutizzazioni. Ma non è il primary outcome dello studio. Lo studio è disegnato prevalentemente per esplorare l'efficacia di questa tripla terapia nei confronti di sintomi, quindi di patient reported outcomes. Lo studio è cosiddetto positivo, quindi lo studio dà un segnale positivo. Di quanto positivo, professore? Significativamente positivo, significativamente positivo. Vuol dire che i pazienti che vanno a tripla terapia precostituita, perché ripeto, i pazienti potevano anche fare una tripla terapia prima dello studio, ma non precostituita in un unico device, passare a tripla terapia precostituita, indipendentemente dalla terapia da cui si proviene, porta ad un trovamento importante nei sintomi e un po' tutti i sintomi che il paziente con BPCO può riferire. Penso a dispnea, penso a tosse, penso a espettorazione, muco e via dicendo. Questo è un aspetto molto importante e molto rilevante. Ecco, perché chiariamolo, professoressa, lo studio non confrontava la triplice rispetto ad altre terapie possibili, ma confrontava appunto la triplice rispetto a come andava il paziente prima, giusto? Esatto, il confronto è il paziente rispetto al suo precedente, rispetto alle terapie che il paziente aveva in essere prima di essere arruolato nello studio, quindi potevano essere le varie combinazioni in doppia, piuttosto che triplici e prevalentemente dai dati che sono venuti allo studio erano triplici quando erano presenti cosiddette estemporanee, ovvero triplici aperte con moltiplici inalatori. L'aspetto rilevante che ha evidenziato lo studio e devo sottolineare studio condotto in un momento storico abbastanza delicato perché durante il periodo pandemico dove l'accesso alle cure, l'accesso ai giusti trattamenti è stato necessariamente impattato e quindi i pazienti hanno mostrato che l'aderenza aiuta in un'efficacia terapeutica, mai l'aderenza è stata così alta come del resto lo è stata in questo studio e i risultati lo confermano ed evidenzia anche come la triplice inalatoria in una combinazione fissa va ad impattare in maniera significativa sull'outcome più rilevante che sono proprio le riacutizzazioni con un impatto in questa fase e in questo periodo storico di grande rilevanza dovuto al fatto che i pazienti effettuavano il trattamento come avrebbero dovuto e in più la triplice terapia va in un unico inalatore va ad impattare su un aspetto di grandissima importanza che è il fatto che l'interazione tra molecole funziona e funziona meglio proprio da un punto di vista farmacologico se vengono dispensate contemporaneamente in un stesso momento come con un singolo inalatore è possibile effettuare per cui ci ha dato un grande supporto a quelli che sono anche i risultati di cui avevamo già conoscenza dei trial clinici randomizzati. L'evidenza in real life supporta e rafforza il dato che avevamo ma con questo sicuramente abbiamo una risposta migliore a quelli che sono i bisogni dei nostri pazienti. Sì e se posso aggiungere su questo una cosa molto importante secondo me che dobbiamo tenere presente che va al di là un pochettino di quelli che sono gli outcome effettivamente dello studio in termini di sintomi o di patient reported outcome è proprio come stavamo dicendo il disegno dello studio ha accennato la professoressa Roliani il problema della pandemia, questo studio ha messo alla prova un qualche cosa che non è virtuale ma è molto reale in cui il servizio sanitario nazionale oggi ci chiede cioè di monitorare i pazienti anche in remoto con degli strumenti anche di telemedicina. Lo sforzo di condurre lo studio durante un periodo pandemico ha fatto sì che state immesse in atto dei sistemi di monitoraggio dei pazienti in remoto e questi sono dimostrati essere efficaci, funziona quindi è possibile monitorare questi pazienti in remoto ed è possibile quindi anche questi pazienti un po' più così fragili, un po' più così cronici farsene carico anche con dei sistemi di telemonitoraggio in remoto. Non è una cosa di poco conto, è una cosa molto attuale, molto vera in cui anche noi clinici ci dobbiamo confrontare nella nostra quotidianità. Speriamo di non averne bisogno per una nuova pandemia naturalmente però è una conferma importante quella che abbiamo ricevuto. Ecco la soddisfazione del paziente influisce poi sull'aderenza, vorrei un commento da parte di tutti e due. Sicuramente la soddisfazione del paziente influisce sull'aderenza, se il paziente percepisce un beneficio dal trattamento è più incline a effettuarlo quel trattamento, per cui avere un dispositivo che dispensa il farmaco in maniera efficace e facile soprattutto nell'utilizzo per il paziente questo sicuramente rappresenta un plus in quello che può essere il successo terapeutico. Professor Contoli, anche un suo commento. Sì assolutamente, credo che questi siano due aspetti che vanno assolutamente enfatizzati dello studio. Lo studio fa vedere, non come primary outcome, come dicevamo prima, i primary outcome sono i patient reported outcome, quindi i sintomi, ma fa vedere chiaramente che migliora la qualità di vita dei pazienti parallelamente alla soddisfazione del paziente nei confronti anche della terapia. E già dati di letteratura avevano fatto vedere in passato, dato molto importante, che più il paziente tende ad essere soddisfatto del proprio dispositivo, più è aderente. Essere aderente vuol dire anche avere meno riacutizzazioni, quindi lavorare sull'aderenza è fondamentale in questi pazienti. Professore, sentiremo un po' le somme delle tante cose interessanti che abbiamo detto. Quali sono i messaggi che portiamo a casa da questo studio? Trattare il paziente in maniera adeguata e direi con un solo termine, appropriatezza terapeutica. La triplice terapia è un'opzione terapeutica di grande efficacia nel paziente con BPCO moderato grave e istituire il trattamento da subito nel paziente per cui è indicato è chiave. Questo non significa dare a tutti la triplice terapia, significa dare appropriatezza alle condizioni patologiche da cui affetto il nostro paziente. Sor Contoli, invece lo studio di Real Life, quindi dati proprio dello studio 3Trial, cosa vi insegnano? Nello specifico ci insegnano che se noi abbiamo dei pazienti non trattati con questa tripla terapia precostituita, beclometasone, glicoperonio, formoterolo, che sono sintomatici, passare a questa tripla terapia precostituita dà un giovamento in termini di sintomi, in termini anche di aderenza al trattamento. e anche lo studio di Trial, ritorno al concetto espresso prima, ci ha dimostrato che un sistema sanitario virtuoso che riesce a visitare, farsi proprio il paziente, ma anche monitorarlo in remoto, può portare degli aspetti importanti clinici in questi pazienti fragili, complessi e spesso comorbidi che quindi impattano in maniera significativa in termini di costi sul sistema sanitario nazionale. Siamo alla conclusione di questa bella chiacchierata, vi ringrazio, ci tengo a ringraziarvi dei tanti messaggi interessanti, dei tanti spunti di riflessione che ci avete dato.